Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Incidente stradale sulla Pergolese, un motociclista trasportato al Torrette di Ancona in eliambulanza Papà ti salvo io, un'iniziativa con i bambini sulla sicurezza in mare Vendemmia 2017, i viticoltori raccoglieranno l'uva con due settimane d'anticipo A Montegridolfo si rivivranno le pagine eroiche della seconda guerra mondiale Fino a domenica a Rosciano di Fano la festa country con stand gastronomici, musica e intrattenimento Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a Occhio alla Notizia Iniziamo con la cronaca e andiamo sulla Pergolese per un grave incidente stradale avvenuto questa mattina Un grave incidente stradale che ha visto coinvolti una moto ed un autocarro Si è verificato alle 10.30 di questa mattina sulla strada statale 424 Pergolese All'altezza del comune di Monteporzio Un uovo di 72 anni, residente a Fabriano, in sella la sua moto di grossa cilindrata Mentre percorreva la statale in direzione Maremonte Si è visto tagliare la strada da un autocarro che proveniva nella direzione opposta Condotto da un cinquantenne rumeno operaio di una ditta impiantistica del posto Che era intento a svoltare a sinistra per entrare nel centro abitato di Monteporzio Per il forte impatto l'uomo ha urtato il parabrezza del furgone Che è andato in frantumi ed è caduto rovinosamente a terra Immediati soccorsi del 118, i cui sanitari, vista la gravità delle lesioni dell'uomo Hanno disposto il suo trasferimento in eleambulanza al torrette di Ancona Dove il 72 ordine si trova ora ricoverato Supposto per i rievi di legge e per regolamentare il traffico molto intenso in quel momento Ma che non ha mai subito interruzioni Una pattuglia della polizia locale del comune di Mondavio E rimaniamo nel comune di Monteporzio Perché i vigili del fuoco di Fano nella tarda serata di ieri Poco dopo le 19.30 Sono stati chiamati a spegnere un cumulo di alcune decine di balle di fiene Andate a fuoco per cause ancora in via di accertamento L'intervento della squadra dei vigili del fuoco è durato diverse ore Fino oltre la mezzanotte Quando il rogo è stato completamente estinto E una giornata impegnativa sul fronte della sicurezza stradale Un altro incidente per questa volta in superstrada nel primo pomeriggio di oggi Poco prima dell'uscita Fano Sud, una Opel Agila guidata da un giovane del luogo Per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia stradale di Cagli Che è intervenuta sul posto Ha perso il controllo ed è finita contro il guardrail Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente autonomo Mentre il conducente dell'auto ha riportato lievi ferite Ed è stato portato al pronto soccorso di Fano Nella corsia Sud della Fano Grosseto Si sono formate code e rallentamenti Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano Per la bonifica dell'area E rimaniamo sul fronte degli incidenti stradali Andiamo poco distanti da qui a Tre Ponti Perché nel tardo pomeriggio di oggi Un'auto è uscita di strada Per cause ancora in via di accertamento Nessuna conseguenza per i suoi occupanti Ma per rimuoverla È stato necessario ricorrere al carroattrezzi E si chiama Papà ti salvo io Ed è un'iniziativa a livello nazionale Per sensibilizzare i giovani bagnanti I bambini sulle operazioni di sicurezza Sui comportamenti giusti e corretti Da tenere quando ci si trova in spiaggia Vediamo di che cosa si tratta L'iniziativa si chiama Papà ti salvo io Organizzata dalla società nazionale di salvamento Mirata al coinvolgimento dei più piccoli Sulle corrette condotte da tenere Quando siamo a contatto con il mare E si è tenuta questa mattina Sulla batticia dei bagni Carlo A Sassonia di Fano Argomento di estrema attualità Qui dalle nostre spiagge Visti i recenti fatti di cronaca Ma che solo casualmente Cade in questo periodo Perché questa opera di sensibilizzazione Sulle corrette condotte da tenere L'associazione nazionale la porta avanti Da diverso tempo Credendo fortemente nel criterio Della cultura del mare Come salvaguardia della propria E dell'altrui incolumità Oggi parliamo di prevenzione Rispetto delle regole in mare Il protagonista rimane il bambino Che attraverso dei giochi Si creano delle vere e proprie situazioni pedagogiche Imparano le regole da rispettare al mare Loro attraverso questo tipo di iniziativa Maturano un amore Ma soprattutto rispetto per il mare Quindi il supporto e l'aiuto Che il cane dà al bambino di salvataggio Questa bella iniziativa Dove vengono mostrate le moderne tecniche di salvamento E di corretti comportamenti Non poteva che trovare forte consenso Sia nell'amministrazione pubblica Che nella marina militare Chiamata in prima linea Sul fronte della sicurezza in mare Cominciavano dai più piccoli Che molte volte insegnano anche ai più grandi Quindi queste iniziative sono belle iniziative Importanti E poi sono anche un modo per divertirsi e imparare Cambiamo argomento Bene, grande attenzione sul fronte della sicurezza in mare Anche per via dei recenti fatti di cronaca Che hanno riportato questo argomento in auge E per cui non se ne è mai abbastanza Soprattutto quando si tratta di salvare delle vite umane Cambiamo argomento Parliamo di agricoltura Della difficoltà della campagna E delle sue culture Per quanto riguarda la siccità E la mancanza di acqua piovana E naturalmente se ne parla da un po' di tempo Sul fronte della viticultura Di vendemmia anticipata Quest'anno si vendemmia sotto il Solleone Dal Veneto alla Sicilia Passando per le Marche Toscane e Umbria Le forbici dei vignaioli Entrano in azione più di dieci giorni prima Per le varietà precoci Si è visto già di tutto Ma la storia dell'annata 2017 È ancora tutta da scrivere In una stagione in cui Nulla è stato risparmiato ai vigneti Sin dalla primavera Con le gelate La grandine prima E con la siccità E il caldo torrido Ora Se la qualità dell'annata È dunque ancora da decidere L'anticipo stagionale Della vendemmia È ormai certo Purtroppo Viste le condizioni I cambiamenti climatici Di questo 2017 Siamo costretti A anticipare la vendemmia Di 10-14 giorni Ma così in tutta Italia Purtroppo il 2017 Un anno da record Perché tra i primi A livello di carenze di pioggia Parliamo di un calo Del 60-70% E anche a livello di temperatura Abbiamo avuto aumenti Di 1,3 gradi Rispetto alle medie Degli ultimi 100 anni Quindi di fatto Sono aumenti Veramente importanti Gelo Gelo Sicità e grandi Ne hanno lasciato il segno Ma non hanno ancora decretato L'aspetto qualitativo Generale dell'annata Per certi aspetti La situazione potrebbe apparire Complicata e difficile Ma non è certo drammatica Le rese dovrebbero calare Ma la qualità potrebbe oscillare Tra il buono e l'ottimo Gli zuccheri Visto Le alte temperature Sono buoni E anche grazie al bianchello Abbiamo una media Che negli ultimi anni Le produzioni italiane Sono aumentate di un grado Alcol A livello di prodotti Vitivinicoli Di vino E questo cosa vuol dire Che in un bianchello Che è un prodotto Che magari una volta Era considerato un vino Fresco Solo giovane Siamo riusciti anche Qui guardo il lato positivo Delle cose A fare dei prodotti Un po' più ricercati Quindi anche per l'evoluzione Un qualcosa di positivo Al costo Al borsellino Invece Ci saranno ripercussioni Al borsellino Probabilmente ci saranno Ripercussioni Per le tasche dei produttori Perché alla fine I mercati Sono sempre stabili Quindi Consumiamo italiano Consumiamo marchigiano Consumiamo pesarese Consumiamo il nostro Bel bianchello Del metauro Che negli ultimi anni Grazie a noi produttori Ha avuto Un incremento qualitativo Diciamo che abbiamo avuto Una crescita reputazionale Prima parlavamo di bianchello In maniera negativa Come un bianchellino Invece Non si sa mai Chiamare bianchellino I nostri prodotti Adesso Perché grazie a tecnologia Grazie alle nostre nuove E giovani aziende Grazie all'agronomia nuova Riusciamo a fare Un ottimo prodotto Bene Cambiamo argomento Grazie a un hashtag Rifiorisci San Bartolo È partita La campagna di solidarietà Per il San Bartolo Devastato da un incendio Lo scorso fine settimana Da oggi È disponibile a Pesaro In numerosissimi punti Della città La cartolina Di Alessandro Baronciani Che permette a tutti Di contribuire Con una raccolta fondi Alla rinascita del parco La campagna è promossa Dai comuni di Pesaro E Gabice Mare E dall'ente Parco San Bartolo Nonché dalla regione Marche E potrà contare Su diverse iniziative L'offerta minima Per la cartolina È di un euro E la somma raccolta Servirà all'ente Parco Per i progetti naturalisti E di rimboschimento Apriamo la pagina degli eventi Andiamo a Rosciano Dove si respira E si respirerà Per tutto il fine settimana Un'atmosfera Molto country Molto western Vediamo perché Mario Evanini È partita ieri sera La festa country Nel parco qui a Rosciano Ecco Come è strutturato Il programma Per questa edizione Allora Questa sera Abbiamo la zumba Con Mattia Diamantini E sotto il telone A cena con bicio Il nostro barzalettiere Ci aglietterà la serata Mentre consumiamo Una cena Del favoloso Vecchio West Domani venerdì Abbiamo la giornata Piena con il western Ci saranno tutti i ballerini country L'orchestra è country Il menù sarà un menù country E noi avremo un abbigliamento Come sono vestito io adesso Più o meno del vecchio West Sabato e domenica Le orchestre tradizionali Con Franco Dolce Vita Bella Belle Po Con il menù tradizionale E tutto al liscio E balli di gruppo Tutto per il divertimento Delle normali feste nostre E invece quali altri intrattenimenti Avete proposto per l'occasione? Gli altri intrattenimenti sono I gonfiabili per i bambini Il trenino Le molle Il tiro a segno La ruota La grande pesca E infine abbiamo anche Un' bella gelateria Che nelle feste Se ne vedono pochi Di queste dimensioni Quindi vi invito tutti Qui a Rosciano Alla festa A partecipare Per poter farci contenti Di tutto il lavoro Che abbiamo fatto Complimenti a Vagnini Per il look Molto calzante E di tutt'altro genere Invece Quello che andrà in scena Monte Gridolfo Una rievocazione Storica Importante Per una pagina epica Che si è vissuta Durante la seconda guerra mondiale Vediamo Quest'anno sarà L'ottavo appuntamento A Monte Gridolfo In terra Riminese Ma siamo a pochi passi Dai confini Con Pesaro Siamo arrivati All'ottavo anno Di rievocazione Chiaramente La manifestazione Negli anni È cresciuta Perché noi Teniamo a curare I particolari E mano a mano Che notizie storiche O particolari Anche tecnici Riaffiorano Durante gli studi Che si fanno Poi anno per anno Noi arricchiamo L'evento Con nuove cose Siamo una cinquantina Di figuranti Che puntualmente Vengono smentiti Nel numero Visto che Anche l'anno scorso Ci siamo ritrovati In 80 Poi chiaramente Le collaborazioni Con altri gruppi Rievocativi Del nord Italia Sono nate Sono sbocciati Nuovi emori Nuovi progetti Quindi saremo In tanti Saremo in tanti Rievochiamo Una pagina Della nostra storia Importante Più recente L'inizio Dell'offensiva Sulla linea gotica L'ultima linea Di resistenza tedesca Questa è stata L'ultima grande Offensiva Della campagna D'Italia Voluta fortemente Da Churchill Faremo la battaglia Vera e propria Quella di Norton Il sabato Che solitamente Si svolgeva La domenica Fino all'anno scorso E L'entrata trionfale In paese Delle truppe britanniche Preceduta Da una piccola Ma importante Scaramuccia Perché i tedeschi Non volevano mollare Neanche il castello La faremo la domenica La faremo la domenica Quindi sia il sabato Dalle 17.30 Però chiaramente Per tutto il giorno Ma il clou E il pomeriggio Sabato 12 E sia la domenica 13 agosto Ci saranno Due bei spettacoli Farciti da luci Da suoni Da fumo Effetti di scena Sarà come rivivere La storia Veramente Perché Noi non siamo figuranti Siamo rievocatori E in un certo senso Attori Quindi Ognuno Interpreterà la sua parte Fino alla fine Un film A Montegridolfo Bene Se non ci siete mai stati Andateci Perché è molto bella E molto spettacolare Bene E' tutto per questa edizione Di Occhio alla Notizia Naturalmente vedete In sovraimpressione Il nostro numero di telefono 338 4968 250 Al quale potete mandare Messaggi o Whatsapp Per inviarci Le vostre segnalazioni Bene Dopo di noi Naturalmente Box Poi in cucina Con lo chef E uno speciale Sul borgo in festa A Ripalta Bene Grazie per essere stati In nostra compagnia Io vi saluto E vi rimando A domani sera Alle 8.30 Sempre per Occhio alla Notizia Buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti.